Ciao ragazzi e ciao ragazzi, nuova postazione video nella mia camera da letto perché lì c'è il condizionatore quindi sono freschissima qua e ho molto piacere di farvi questo video perché vi voglio fare un video super riassuntivo aggiornato per quanto riguarda la malefica cellulite ragazze, cellulite ritenzione, gonfiore sulle gambe che col caldo veramente diventa una cosa atroce, ma ce la possiamo fare ragazze inizio col dirvi che se vi piace questo look, il make up, il vestito, tutti gli accessori eccetera guardate il mio ultimo video della morning routine estiva che ho caricato proprio qualche giorno fa qua sul canale e vi ho mostrato tutti i trucchi che ho usato, eccetera, anche il vestito, tutto perché sono vestita proprio uguale e abbiamo rifornito i gioielli carlita jewelry, ve lo dico già perché so che me lo chiederete io adesso ho deciso di abbinare i cerchi cuore con la collana cuore, ragazzi adoro e bracciare Summer Vibes che per ora è l'unico bracciale che abbiamo e io lo amo tantissimo non lo tolgo mai, quindi lo indosso sempre e sulle labbra c'ho questa tinta che non si toglie dura tantissimo che si chiama Rosis anche questa ve l'ho mostrata nella morning routine assieme alle illuminate guardate quel video che vi ho fatto vedere tutto vi metto il link dei prodotti di cui vi sto parlando adesso nel box info sotto quindi vi metto anche il link della tinta Rosis perché è una tinta bellissima, nude però un nude che va bene con la pelle abbronzata che vi straconsiglio per questo periodo e abbiamo rifornito su Caritas Shop, quindi vi metto tutti i link nel box info allora il primo prodotto contro la cellulite di cui voglio parlare è assolutamente la slim cap la coppettina, guardate che ve l'avevo mostrata in un vlog e praticamente circa un mesetto fa da allora sto continuando ad utilizzarla e ragazze veramente veramente i risultati ci sono, è fantastica io non credevo ma davvero già dalla prima applicazione vedete la pelle è proprio che si rassoda si eliminano proprio i buchetti della cellulite, il gonfiore, la ritenzione la pelle è proprio più tonica, però con l'utilizzo veramente cellulite sparita ragazze, adoro questo olio è fantastico, ha anche un ottimo inci, ingredienti tutti naturali e profumo buonissimo la coppetta la passo tre volte a settimana più o meno questa stimola proprio il massaggio linfatico, quindi l'eliminazione dei liquidi in eccesso e quindi simulare la circolazione, eliminare la cellulite, il gonfiore, tutto vi giuro è fantastica, si applica sulla pelle, cioè la senti proprio che l'applico sulla pelle non è doloroso perché alcuni di voi mi hanno chiesto sta cosa cioè senti che comunque fa tipo un risucchio, però non è doloroso assolutamente e poi va massaggiata dal basso verso l'alto, ragazza è favolosa e vi ripeto, tre volte a settimana, cioè ci vogliono cinque minuti per farlo e vedete i risultati questo qua è un'offerta scontato sul loro sito la coppetta ragazze Slim Cup, eccola qua, vedete viene venduta assieme a questo libricino che dà tante info utili, controlla cellulite, un sacco di consigli assieme al loro olio che si chiama Cellu Oil viene venduto in un pacchetto scontato sul loro sito io vi metto il link nel box info, se accedete tramite questo link accedete al prezzo scontato quindi avete questo sconto particolare accedendo con il mio codice comunque guardate nel box info, ve li straconsiglio ragazzi sapete che io provo e recensisco solo roba top che davvero funziona e questi funzionano davvero secondo prodotto top che vi voglio straconsigliare sapete che io da anni utilizzo i prodotti fitvia e davvero ragazzi sono qualcosa di miracoloso e mi accorgo giorno dopo giorno, mese dopo mese che funzionano sempre meglio sono favolosi io non bevo più tisane di nessun tipo bevo solo le loro tisane in particolare vedete che proprio me la sono preparata proprio adesso perché adesso me la bevo io la faccio due volte al giorno mi sono fatta questa qua, la strawberry che praticamente è quella che sa di fragola viene praticamente il pacchetto anticellulite sul loro sito fitvia dove il mio codice è come al solito cardida10 hanno questo pacchetto proprio anticellulite dove c'è lo strawberry che è un tè super drenante che elimina proprio il gonfiore e la ritenzione e le caps anticellulite queste qua se ne prendono ogni giorno tre e aiutano tantissimo ragazze, credetemi, sono favolose io da quando sto usando questa combinazione quindi faccio due tazze al giorno di strawberry e queste caps assieme ovviamente a tutti gli altri prodotti che vi ho fatto vedere e che vi farò vedere perché anche il massaggio di cellulite serve tanto però serve anche drenare con questi prodotti veramente ho eliminato il 99% della cellulite che avevo quindi vi consiglio di fare tutte queste cose sono tutte cose che assieme funzionano benissimo e i prodotti Fitvia davvero ragazze se li provate non li mollerete più perché vedrete davvero i risultati sul corpo un'altra cosa che faccio sempre 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 è il fango anticellulite questo qua come tutti i prodotti che adesso vi faccio vedere li trovate tutti sul mio shop online Cardita Shop dove sapete che inserisco tutti i miei prodotti preferiti che utilizzo nel mio quotidiano è uno shop in cui farvi trovare le cose che io amo e che per me funzionano che davvero utilizzo nel mio quotidiano è una delle cose che veramente veramente vi straconsiglio questo fango ragazzi questo è un fango osmotico drenante cioè elimina tutti i liquidi dall'interno li tira fuori quindi ha questo effetto osmotico e ha un effetto anticellulite snellente veramente vi modella il corpo questo vi consiglio di farlo tre volte a settimana veramente se lo fate con costanza vedete i risultati il fango è una cosa che va fatta perché veramente vi modella il corpo e vedete la pelle più tonica più snellita io lo applico su gambe, cosce e addome non c'è bisogno di mettervi l'appellito la pellicola io la metto soltanto oppure su quei pantaloncini impermeabili se devo fare altro insomma se mi devo sedere se devo fare altro ma giusto per non sporcarmi ma non è obbligatorio l'importante è che lo teniate 30 minuti ragazze credetemi credetemi è una cosa che vi cambierà la vita il fango questo è ottimo vi metto il link nel box info di tutti i prodotti che vi mostro vi metto il link comunque sul mio shop trovate una categoria che si chiama anticellulite smagliature e lì trovate tutti i prodotti che vi mostro adesso e anche altri che vi straconsiglio perché sono tutti ottimi ovviamente non è che vi posso far vedere adesso 40 o 50 prodotti però tutti quelli che trovate in quella sezione che vi metto il link nel box info sono approvati da me e ve li straconsiglio adesso vi mostro quelli che io sto utilizzando particolarmente in questo periodo quindi anche di questo fango vi metto il link nel box info dopo il fango applico sempre sempre la crema anticellulite questa la amo tantissimo e so che anche a voi piace tanto l'abbiamo rifornita su Calita Shop perché va sempre a ruba assieme al fango finiscono sempre sono prodotti favolosi questa è una crema che contiene estratti naturali ovviamente tutto bio naturale che funziona ricco di ingredienti pregiati ricco di edera eppocastano ingredienti che vanno ad eliminare la cellulite la pelle a buccia d'arancia i buchetti rassoda questa è ottima anche per il grasso localizzato infatti c'è scritto cosce glutei addome io l'applico movimenti circolari dal basso verso l'alto sulle gambe glutei anche sull'addome sulla pancia aiuta tantissimo a snellire eliminare il grasso e la cellulite ovunque anche interno coscia dove non so voi ma è un mio punto critico quindi sto là un po' di più a massaggiare perché davvero davvero se lo fate tutti i giorni fango tre volte a settimana la crema vi consiglio di metterla se potete anche due volte a giorno mattina e sera più la mettete meglio è io vi dico la verità la metto solo la sera però comunque già mettendola solo la sera vedete tantissimi risultati poi è molto bella perché ha un effetto freddo tonificante quando la mettete che piacevolissimo questo caldo e va benissimo proprio perché ha anche problemi di capillari bene problemi di circolazione perché elimina anche il gonfiore dalle gambe un'altra cosa che vi consiglio è questo scrub questo è lo scrub cocco caffè cocco caffè anticellulite ragazzi questo scrub credetemi è favoloso sembra proprio quelle ricette che facevo io in casa però ovviamente è molto più potenziato perché non c'è solo il caffè ma ci sono tanti estratti e ingredienti che funzionano contro la cellulite uno scrub specifico anticellulite è veramente favoloso la cosa bella di questo scrub è che può essere utilizzato anche in estate non elimina l'abbronzatura anzi ravvive il colorito dell'abbronzatura e cosa stupenda è che ve elimina anche i peli incarniti infatti io da quando lo faccio ho notato proprio che i peli incarniti non ce lo provo più oltre a cioè nasce come scrub anticellulite però funziona anche contro i peli incarniti quindi wow due cose in uno e vi consiglio di farlo due o tre volte a settimana sotto la doccia vi mettete e lo massaggiate dal basso verso l'alto massaggiate prima sulla pelle asciutta poi man mano aggiungete un po' d'acqua e continuate a massaggiare a massaggiare a massaggiare diventa tipo un'emulsione fin quando poi vi sciacquate e siete a posto vi lascia la pelle liscia tonificate elimina cellulite peli incarniti top un'altra cosa è questa crema anticellulite ragazzi questa è una crema anticellulite che io amo tantissimo al pari di questa qua anzi spesso io faccio in questo modo se riesco ad utilizzarla due volte al giorno a fare l'automassaggio di cellulite due volte al giorno utilizzo questa la mattina e questa la sera quindi sfrutto la sinergia di queste due creme che sono ottime questa praticamente è una crema anticellulite una lozione quindi è molto anche liquida leggera comunque non unge la pelle vi potete rivestire in fretta anche quella sono tutte e due molto fresche quindi adatte per l'estate non vi sto a consigliare i bastoni ragazzi perché so che andate di fretta so che fa caldo e so che vogliamo cose pratiche questa è top ha l'olio di macadamia rassoda tonifica linea cellulite è buonissima anche questa qua ha un ottimo profumo sì infatti quando la utilizzo mi piace tantissimo questo profumo averlo proprio addosso quindi la uso anche come crema proprio profumata per il corpo rassodante la metto ovunque la metto anche sulle braccia questa la metto dappertutto questa a differenza di quella non fa effetto freddo quindi non sentite quella sensazione di freddo però è piacevolissima i risultati ci sono è molto fresca comunque ve le consiglio entrambe provatele e poi mi dite qual è la vostra preferita ragazzi oltre a questi prodotti che vi ho mostrato ovviamente lo sapete le regole fondamentali ve lo dico sempre bere tanta acqua oltre alle tisane bevete anche tanta acqua quindi bevete tanta acqua e tante tisane più liquidi bevete non coca cola ovviamente eliminano la ritenzione l'accumulo di grasso quindi più bevete e meglio è soprattutto col caldo e mangiate bene cercate di avere un'alimentazione sana soprattutto a base di verdure e pesce che veramente veramente fanno bene e vi assicurano un fisico snello e in forma evitate o comunque limitate il consumo di fritti dolci con zuccheri raffinati anche se comunque ogni tanto ci stanno lo sapete ogni tanto però non sempre insomma mangiate sempre patatine fritte perché comunque le patatine fritte provocano la cellulite si sa e un altro consiglio che voglio darvi fate attività sportiva in particolare per la cellulite oltre alla palestra quindi esercizi proprio con pesi ma anche con elastici tipo potete fare anche gli slanci con i glute quelli a testa sotto che alzate il gluteo così per dirvi sono vari esercizi che potete fare anche in casa una cosa che aiuta tantissimo è la camminata in pendenza quindi tipo se avete un tappeto in pendenza se no ve ne andate per le montagne per le colline a camminare fa benissimo più della corsa perché la corsa ho notato almeno su di me che aveva un impatto mi sono anche formata che è vero che può simulare la cellulite perché è un impatto troppo violento soprattutto se correte molto sono 5 minuti di corso ogni tanto va bene simulare il metabolismo però se avete intenzione di fare un'ora di cardio meglio un'ora di camminata in salita piuttosto che un'ora di corsa se avete il problema della cellulite quindi questo è tutto ragazze io spero che i miei consigli vi siano stati utili il primo consiglio che vi do è quello di volermi bene mi raccomando coccolatevi con tutte queste cure e questi trattamenti però voletevi bene non odiate il vostro corpo perché sicuramente è anche una piccola imperfezione parliamoci chiaro ragazze la cellulite ce l'hanno tutte vi assicuro anche io a volte metto delle foto su instagram voi mi dite non c'hai la cellulite ma vi assicuro che ce l'ho tutte c'hanno la cellulite anche le magre quindi è certo possiamo migliorare io sono migliorata tantissimo mi raccomando voletevi bene e accettatevi perché sicuramente chi è che vi guarda non noterà in voi la cellulite o qualche chilo di troppo ma sicuramente noterà il vostro sorriso e la vostra purezza la vostra cordialità quindi sorriso sbagliante e puntate sulla simpatia qua c'è vi faccio dare un salutino da lei mi bacio e salutare tutti le ragazze forse perché si parla di donne si parla di donne e vi voleva salutare vero mamma? vuole essere mammona vuole essere un po' un bacio a mamma salutiamo tutti gli amici di pupi ragazze ditemi nei commenti i vostri cagnolini se sono come pupi che sono mammoni vogliono sempre le coccole scrivetemi i nomi dei vostri cagnolini e altri pollici su per pupina ciao ciao tutti ragazze guardate nel box info tutti i link ai prodotti che sicuramente vi sarà utile un bacio grandissimo dalla vostra cardina ciao ciao family ciao vi amo che bello questo illuminante ciao